I pazienti stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella gestione delle loro terapie, ma anche nello sviluppo clinico dei farmaci. E' stato questo uno dei temi al centro di una tavola rotonda molto interessante che si è tenuta qui a Stresa in occasione dell'undicesima edizione del Forum Farm e noi ci siamo fatti spiegare i temi principali di questa sfida. Il ruolo dei pazienti nella ricerca clinica è fondamentale, si parla sempre della centralità dei pazienti. In realtà la clinica medica ha il paziente al suo proprio centro, il resto le specialistiche vanno ovviamente nei approfondimenti. Il ruolo dei pazienti e delle associazioni è stato sempre più considerato negli ultimi anni e sta diventando una missione anche della nostra società poter mettere assieme tutti i vari interlocutori in una visione olistica del problema dove ognuno svolge il proprio ruolo costruttivo al fine di poter ovviamente agevolare e ridurre le sofferenze, ma anche ovviamente avere delle terapie che possono essere precise, mirate e soprattutto seguite da pazienti. Quindi la proprietà e l'aderenza sono fondamentali. In questo concetto è fondamentale anche che ognuno giochi la propria parte e come ho concluso, se ognuno gioca la propria parte, ha anche un interesse non solo delle aziende, della sanità pubblica e delle società scientifiche, ma ne interesse proprio di tutti, ognuno di noi dove è collocato perché tutti noi siamo dei potenziali pazienti. Stiamo assistendo a quello che è una rivoluzione culturale, anche se forse il termine culturale non è corretto, che vede il paziente non più alla fine di un percorso verticistico che parte dal medico e porta la propria azione, ma di un paziente che ha un ruolo veramente attivo in tutti quelli che sono gli anelli dello sviluppo di un farmaco e quindi delle politiche decisionali che impattano la salute. Tutti gli stakeholder sono pienamente d'accordo che il paziente deve avere la sua centralità, dal ricercatore clinico alle commissioni nelle attività regolatorie fino al medico di medicina generale, ma ci sono ancora tanti anelli deboli che noi forse come associazione scientifica abbiamo il compito di contribuire a colmare, che sono quelli della formazione e dell'informazione che deve coinvolgere tutti gli attori di questo grande processo. Quindi ci deve essere questa circolazione assolutamente orizzontale dell'informazione che deve portare proprio a questa partecipazione estremamente attiva del paziente, considerando non solo la sua malattia, questo è il punto fondamentale, ma considerando anche i suoi bisogni sociali, i suoi bisogni culturali, i suoi bisogni psicologici che possono venire a prendere delle decisioni importanti sia dalla sperimentazione clinica. È emerso appunto di questo importante coinvolgimento dell'Associazione dei Pazienti che devono essere il veicolo dell'informazione dai pazienti ai pazienti stessi, con un altro elemento di centralità per il paziente che è il medico di medicina generale. Quindi si è ben consolidata e ben definita quella che è la catena delle persone coinvolti in questo processo. È ovvio che tutti devono essere preparati in grado di capire, comprendere e trasmettere.